Voi dovete vedere qua, guardate qua Guardate qua, io protestare, assolutamente, chiamate i carabinieri Perfetto, buongiorno amici e amiche, ci troviamo qui nell'ufficio del consigliere Mario Maggio Quarta Municipalità di Napoli Mario Maggio è il consigliere che in questi giorni ha dato vita a una serie di iniziative Perché convocato e chiamato un pochino dalla cittadinanza Ma soprattutto anche dagli operatori commerciali della zona Consigliere ci vuole raccontare brevemente come sono andate le cose Come stanno i fatti, cosa l'ha mossa Allora, innanzitutto buongiorno a tutti i telespettatori Il principio è questo Io dove vedo corro e dove mi chiamano corro ancora di più Quindi per quanto mi riguarda ho espletato le funzioni del mio mandato Quindi accogliere le istanze dei cittadini, anche quelli che non mi hanno votato Perché subiscono praticamente nel quotidiano queste angherie E mi sono recato sul posto a filmare per testimoniare quello che accade E riportarlo alla mia amministrazione E con queste immagini che hanno fatto un po' il giro del mondo Ma dell'Italia in particolare E per quanto riguarda una serie di esposti cartacei Ma che non sono l'ultimo e non sono stato neanche il primo a far presente a questa amministrazione Perfetto, risultato rimbombante e anche rindondante Si è ottenuto perché lo si vede dalle visualizzazioni Che abbiamo avuto modo di verificare sul suo account personale Ha superato le 700.000 Vuol dire che il problema è veramente sentito La soluzione, se soluzione c'è E le responsabilità, di chi sono? Allora innanzitutto, a prescindere dall'inciso delle visualizzazioni Io vorrei innanzitutto focalizzare l'attenzione sui commenti Sulle migliaia di commenti che da tutta Italia Quindi non solo da Napoli Ma da tutta Italia, amici della Svizzera Conterrani e non Che hanno espresso praticamente un giudizio negativo Nei confronti di chi poi deve gestire al meglio questa città E che percepisce all'incirca 5.000 euro al mese In ogni buona amministrazione O quantomeno in ogni buona azienda privata Si vedono i risultati Dare 5.000 euro al mese a chi non fa fruttare un'azienda Penso che al secondo mese l'avrebbero mandato via al calci Il nostro sindaco sta da 7 anni E insomma se facciamo qualche conto Dopo 4.500.000 euro Credo che i risultati sono sotto gli occhi di tutti E dovrebbe quantomeno insomma deporre il suo mandato A cospetto dei cittadini Ho visto purtroppo nell'ultimo video che mi hanno aggredito Un fatto anomalo Un soggetto di nazionalità algerina Che conosciamo anche come un presunto borseggiatore Mi fa un video in contemporanea Parlando con il sindaco della mia città Cioè invece di parlare al presidente della sua nazione Parla con il mio sindaco Dicendomi che sono io quello che fa i video Questa cosa secondo me dovrebbe far riflettere un po' tutti Perciò io nel video ho evidenziato la frase nel dire Il sindaco secondo me sa quello che accade e non fa niente Questo è il principio Ritornando alla sua domanda Posso dire in effetti che la soluzione dovrebbe avvenire Quando c'è un'amministrazione Innanzitutto che ti ascolta Ma anche che è propedeutica Perché se prendessimo delle aree predisposte per questi signori Sicuramente toglieremo questo degrado dalla strada Ma non solo un contesto di abusismo Dovremmo innanzitutto pensare che queste persone Per aderire a quelli che sono bandi pubblici Devono avere dei criteri Se non aderiscono è perché non hanno criteri Quindi se non hanno i criteri Io non vedo perché dobbiamo dare tutta questa permessività Quindi la prima cosa che si evidenzia Io le faccio le ultime due domande Quindi le chiedo potere di sintesi Chiedo scusa se mi prolungo ma per dare il senso No 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 fa benissimo Anche perché l'argomento è complesso Però lo voglio riassumere in queste due domande Si evince una disparità di trattamento Da parte dell'amministrazione Nei confronti di operatori commerciali napoletani E queste persone che senza rispettare il più ben che minimo Livello di autorizzazioni amministrative Di rispetto della salute degli altri Perché si vendono anche prodotti alimentari Abbiamo potuto vedere Lo abbiamo anche filmato in altre occasioni Queste persone vengono lasciate a loro stesse E possono fare ciò che vogliono E quindi queste le fa sentire autorizzate Mentre invece noi abbiamo avuto modo di verificare Che nel mercatino di via Ferrara Fioccano multe La più piccola da 160 a 220 euro Per mezzo metro in più Su uno stallo operativo di un ambulante Ultima domanda Quindi è articolata e complessa Quindi le chiedo veramente un potere di sintesi Si è sentito tutelato ieri Perché ieri è stato minacciato più volte di morte Parto dalla prima Farono arrabbiare le metodiche che si usano Nel momento in cui ci si accamisce contro i commercianti Se sforano di mezzo metro Ma sono le regole Allora se le regole le devono rispettare Gli ambulanti che trasgrediscono a queste Allo stesso metro Io non vedo perché poi Insomma a pochi metri Si lasciano persone invadere In marciapiedi Commerce che è constatato Non solo che sono insalubre Ma anche di dubbia provenienza E allora a questo punto voglio dire La stizza da parte di chi viene multato Effettivamente insomma diventa anche palese Fatto salvo che le regole valgono per tutti Allora stesso metro per via Ferrara Stesso metodo per Corso Novara Detto questo La seconda domanda Non si è sentito solo Mario Maggio In quel momento minacciato di morte Anche perché le minacce sono nella visione e negli audio Ma qua si sente un'intera comunità Minacciata insomma della sua incomunità E io credo che questo Nella terza città d'Italia Ma in tutta Italia e in tutto il mondo Non debba accadere In particolar modo in una nazione civile come l'Italia Quindi io sto facendo quello che è Nel mio dovere di amministratore di questa città E della municipalità che rappresento In quanto eletto per l'ennesima volta Ripetutamente in questa municipalità E vi ripeto Laddove vedo mi muovo Laddove mi chiamano corro Quindi io sono corso a sostegno A prescindere del mio elettorato Ma delle migliaia di residenti Che non mi hanno votato Ma che legittimo la loro preoccupazione Noi ringraziamo il consigliere Mario Maggio Contiamo gli saremo vicino come emittente E anche come testata giornalistica Contiamo che chi ha la responsabilità Di porre fine a questo sconcio Possa finalmente e in maniera definitiva intervenire Grazie Io ringrazio lei e tutti i telespettatori Per questo contributo di verità Grazie 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 a tutti